In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo di questo fine settimana, vogliamo aggiornare i telespettatori di Cilento Channel sulla situazione attuale del tempo? Sulla nostra regione, come su tutto il centro-sud dell'Italia, sta per aprirsi un periodo caratterizzato da caldo intenso. L'affondo di una depressione nord-atlantica in direzione della penisola iberica ha determinato nelle ultime ore la formazione di un profondo vortice ciclonico sul golfo di Guascogna, classificabile come ciclone extratropicale. Depressione che non interesserà la nostra penisola, ma avrà il merito di incentivare una risposta di aria molto calda dal nord-Africa. Avvezione calda accompagnata da tassi di umidità elevata che caratterizzerà il tempo sulla nostra regione per molti giorni. E per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, quale sarà il tempo previsto? Per domani, sabato 8 giugno, avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Tuttavia, al primo mattino, nelle ore notturne, avremo la formazione di nubi basse lungo la costa a causa dell'aumento del tasso di umidità. Temperature insensibili aumento con valori massimi che nelle aree interne lontane dal mare potrebbero superare i 35 gradi centigradi. Valori di gran lunga inferiori invece in prossimità della costa a causa dell'azione mitigatrice delle brezze. Venti deboli di direzione variabile e mare calmo al mattino con lieve aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio. Domenica 9 cielo poco nuvoloso lungo la costa con tendenza a velature nel corso della giornata. Durante il pomeriggio nubi anche consistenti potrebbero interessare la dorsale appenninica centro-meridionale della regione dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio. In serata ritorno a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie su valori molto elevati. Venti deboli a regime di brezza e mare quasi calmo. E sulla tendenza della prossima settimana che cosa puoi dirci? All'inizio della prossima settimana la depressione atlantica si dirigerà ulteriormente verso sud ma traslando lievemente anche verso Levante. Questo potrebbe determinare una lieve flessione delle temperature massime a causa di una maggiore presenza di nubi ma si tratterà davvero di una condizione poco significativa. Infatti con l'ulteriore affondo della depressione verso le coste occidentali e africane l'afflusso di aria calda sulla nostra regione potrebbe intensificarsi tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno. Dunque ondata di caldo che insisterà sulla nostra regione almeno fino a sabato 15 giugno. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti